Sono... sono amico di... Eh, cosa devo fare? Non devo mettere like a una mia amica che fa una foto? Eh? E' vietato mettere likes? Ma che emot mi fate? Ma cos'è ora sta emot di sto cazzo? Che faccio cose strane con la testa? Dai, ma cosa? Ma torde ci sono queste emot? Vabbè, farò... Mi immagino che... Starò succhiando via una cosa di una ape Questo mi immaginerò Perché se no mi viene da arrabbiarmi Per favore, Rice Per favore, dai Dai, togliamo queste cose, per favore Togliamo queste cose, dai Togliamo tutte queste cose Per favore Per favore Per favore, devo... Per favore, dai Dai, non si può tornare così Non si può tornare così Non si può tornare così In live Dai Dai Che cazzo... Per favore... Per favore... Per favore... Per favore...